Ciao a tutti ragazzi, io sono Nevermind, benvenuti in questa nuova serie su Minecraft che ho deciso di chiamare Lost Island e lo scopri da poco, fra poco perché l'ho chiamata in questo modo e sono in compagna di Ike Rieg, che adesso gentilmente ci leggerà tutti questi bei cartellini Vabbè, ovviamente in inglese dice benvenuti a bordo del Castaway Jet, osservate le seguenti regole per la sicurezza e non rompete i blocchi, premete i bottoni solo quando viene chiesto e dopo, vabbè, aprite pure le cose, le ceste se vi serve qualcosa e quando siete pronti andate alla cabina di bordo che è questa, cockpit section e guarda se c'è sta qualche cesta prima che scendiamo da qua c'è una cesta lì ma non so come si fa aprire c'è questo testo ci sono dei semi, un'anguria, una mela e due biscotti io ho tenuto uno, un pezzo di lana inutile qua c'è il blog your look gage ma non mi apre niente ti apre un biscotto vediamo vai da dietro me lana me non la apre c'è un fungo farina dorsa, una mappetta e altra roba il casco di cuoio, vabbè e si apre col destro eh eh sì sì ma non l'apre non mi fa niente forse perchè sei nello spawn comunque qua c'è sta un'altra tutto il cibo e c'è un po' di roba niente di che poi attenzione come apre compartimento del piloto automatico vediamo c'è un pulsante lo premo guardiamolo ho preso una bussolina vabbè dai vai da cazzo è oh c'è stato te ho spaccato un'ala si poi quando siamo qua passa errore 2,2,3,4,4 il pilota sbrp che cos'è che significa non si chiama bayrech no eh non vedo il pilota is brrrrr vabbè right engine pression is above eh va infatti per nonostante sta accadendo quindi dobbiamo scendere l'acqua sì ma che tempo di marco allora se pronta scende guarda io me mi metto qua vicino alla porta quando te premi io mi fiondo giù e mi mi getto eh sì pure te vai 3 2 1 via eh ho premuto ho premuto allora va prima te va prima te sei pronto 3 2 1 via ah shit oh my god è rimasto sopra no ah io sto allaggando come da merda eh anch'io un po' merda oddio quanto sto a fondo eh anch'io sto salendo nooo ecco te faccia 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 ok ci siamo bene andiamo che cazzo è là sotto che bello sto tempo poi è perfetto per un naufragio no si beh certo ho preso un pochino di roba ah guarda la mappa non è una freccia no no guarda sta mappa merdo guarda la vedi ah che figo ah da qua c'è la o c'è uno scheletro dobbiamo evitare dici si non c'è scritto qua non c'è scritto qua allora ehm la stanza delle informazioni e delle sfide delle sfide esatto delle sfide questa mappa può essere oh questa mappa può essere giocata a qualsiasi difficoltà inclusa peaceful che sarebbe quella pacifica senza mob si questo lo leggite allora leggete i segnali dal basso verso dal lato verso il basso ehm vabbè sono indicati con la freccetta ehm you're right for avanti sulla tua destra ci hanno informazioni sull'uso di questa custom map ok quindi da qua allora ehm close call castaway ehm ehm eh vabbè tipo è la spiegazione nel senso benvenuti in questa mappa bla 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 si puoi visitare questa oi quando vuoi ci sono alcuni segreti quando sei pronto inizia la storia climb back and swim tu devi tornare dobbiamo tornare su e nuotare verso ehm la castaway island ah non ve l'ho detto sta mappa è ispirata al film una castaway si ma c'è troppa roba cos'è tutta sta roba qua ah qua c'è sta una regola opzionale tipo siccome tu hai diciamo il trauma eh hai avuto un trauma dall'incidente non puoi creare la workbench la tavola da lavoro finchè non è passato un giorno e una notte eh vabbè diamo questo ti dovrebbe incoraggiare eh no qua ci stanno le sfide allora ci stanno queste qua che sono due pannelli facili io me le sono ovviamente tradotte adesso ve le leggo allora c'è costruisci una porta automatica si make a spare spare map una mappa di scorta mushroom hut una capanna fungo poi costruisci una cantina poi questo penso che at last non so che cazzo significa al massimo al massimo al minimo crea minimo uno strumento di tutti quelli in roccia diciamo di creare tutti gli strumenti in roccia uno minimo poi costruisci una forma di sos un segnale sos quindi qua tipo un faro che cazzo ne so poi impara a far crescere l'erba e o i meloni quindi a scelta quindi per qua che crafta crea un arco o una o una o una freccia si esatto una spada di ferro quella freccia andiamo a fare qualcosa dai ma anche se stanno reale si ce l'ho tutte scritte su un foglio quindi per ogni video vedrete quelle a inizio video vedrete quelle che abbiamo completato adesso facciamo quelle facili poi completate queste andremo avanti con queste medium e poi hard e poi la sotto se non so se hai notato c'è il lit ma si ehm vabbè adesso mi andiamo a paura ma io andiamo aspetta finisco da leggere queste qua e poi ci stanno anche le sfide missioni qua in basso poi questa è d'esplorazione questo piccolo poi fai un giro sulla barca vabbè ehm recupera la la lo da da recupera la 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 rotta sulla scogliera cerca le luci di cocco trova il fuoco ehm guarda l'alba si no il tramonto dalla dal covo di castaway una cosa del genere poi caccia cucina e mangia il tuo il tuo pesce quindi il tuo pisello poi trova qualcosa di appiccicoso questo non sa che è collegato al pesce eh vabbè aspetta vai 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 ci sono le quest sempre facili vabbè ma tipo passi tutto il video a leggere e tanto il primo sarà tutto così eh vabbè allora il primo la prima missione è il compagno pazzo recupera boris la la zucca la zucca dal fondo dell'oceano dal fondo dell'oceano sotto l'incidente dove è avvenuto l'incidente con l'aereo poi diventa tipo diventa gli amico e portalo ovunque anche nei dungeon quindi stai attenzione amalo amalo il tempio dell'isola no dell'oasis no leggilo tipo questo per carità ah sono giù nella map room arrivo arrivo tipo la leggenda narra che sotto all'isola c'è una specie di di bachet è il secchio una specie di secchio mistico che trasforma l'acqua fresca e pulita dicono che c'è flow in fresh water vuol dire che l'acqua che scorre fresca tu la sua verso la sua casa lì verso la sua casa vabbè sono leggende dell'isola gli abitanti dell'isola ma qua cosa c'è map room map che infatti mi hai spinto giù allora stai al centro di questa e guarda la tua destinazione la tua ma come cazzo cosa vuoi dire stai al centro di questa ma ecco forse se te levi vabbè ok andiamo giù allora devi stare al centro e guardare tutte penso che sarà la stanza eh vedi qua è l'incidente ok figo cactus island sai che manca mi sa che questa in verde sarebbe l'isola perché non c'è cioè non c'è castaway island sui cartelli penso che sia quello ecco vabbè north sunrise va bene comunque a nord abbiamo l'incidente con l'aereo a sud no a west che è ovest 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 abbiamo scena ring dead raro 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 poi a sud l'isola di no l'isola cactus e abbe altre cose che te c'ha la mappa le poi vedete anche con la mappetta esatto e niente andiamo sulla cacchio di isola infatti stra bene però la mappa da si si poi non so te io cioè mi è piaciuto abbastanza pure il film si non lo ricordo tanto il film però quello quanto manx si si mega barbone infatti se se alcuni l'avranno capito tipo la zucca boris simboleggia e wilson del film no che lui si portava presso il pallone allora io dico da iniziare con la prima missione visto che siamo vicini al luogo dell'incidente ma qua c'è una cassa scopo vada un po prendi un po' questa roba ah ok posso prendere prendo tutte si si forse non potevi prenderlo prima perché li trovati allo spawn oh diventato c'è un'altra mappa prendila prendila no lo prendo ho preso ok a posto o di cordicelle i bastoni da questo carbone perfetto eh insomma tutto quello che vediamo la c'è lo scheletro tutto quello che vediamo è meglio prenderlo secondo me allora l'incidente è avvenuto l'anno per o meno qua e quindi eh detto che boris sta qua sotto perché io vedo una lucetta vi è qua vi è qua lo sto io cerca da sta lontano dallo scheletro vado avanti ai puccio con sta texture pack la vedi la lucetta lì in basso lo sto io vado a prenderlo andiammi gicari texto desi si meno si perone e» ah si si jack of lite l'ho preso l'ho presa ti a… ho Futfoli spot sto morendo sto morendo dai 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 un tanto lo scheletro ecco mi so già ci sta sparando a un po' fino a occhio no però me guarda male il suo ma è di ciò la comoda le frecce st e di che ci guarda questo è più forte a questi un po' di più schifi di fatto proprio paura schifo sembra pensavo che sti postano subendo danno invece so proprio rosse del loro i peggiori perchè è stato a livello sono anche bello no basta già anche infatti bisogno lo scrivo ok quindi abbiamo completato la prima missione oh yes e questa è l'isola non si può notare veloce se premi spazio ai piccolino di un progetto house che c'era visto che tipo e l'ala del dell'aereo è caduta a qualche parte la prossima è tipo un pezzo d'ala dobbiamo trovare la prima missione insomma la prima andata di scia ma era anche inizio no la prima missione scusa la prima di quelle obiettivi facili ah ciao nella prima isola qua vicina grande se guardi nella mappa questa è castaway island e praticamente io penso da costruire qua la prima casa guarda che dici qua in alto beh qua qua c'è anche lì guarda quanto è lì esatto ste palme sono fatte veramente bene qua c'è la roccia anche bene cominciamo a sfaldare il legno vai vai io prendo questo qua coi pugni proprio coi pugni ah ti ricordo che non possiamo costruire la workbench ah si è vero siamo fottuti e quindi purtroppo dobbiamo aspettare visto che la notte è già passata dobbiamo aspettare che passa oh sta laggando dicevo visto che la notte è già passata dobbiamo aspettare soltanto il giorno ah non puoi costruirla subito eh prensi no adesso no perché il trauma del dell'incidente si sono cazzate dicono loro però vabbè facciamo finta di essere traumatizzati oh mio dio prendi se trovi prendi anche gli alberelli che lasciano cadere va bene se cadono si ma chissà che mani deve avere la tira di quei cartoni a legno è Wolverine tra le mani di legno guarda guarda dico beh tu vuoi dirmi che è il bacio che arriva fin là vabbè ma ascoltami ma qua è la roccia spacchiamo non so se è roccia perché su sta death sur pack non capisco quanto ci mette mi sa di sì che è roccia ci mette 8 ore vediamo eh visto che non se no no ma tanto se la spacchi con le mani non puoi ah è vero eh ok quindi e quindi adesso fa tramuta il legno in assi di legno va bene e ci costruiamo una simil casa qua no ma che ci abbiamo paura dopo dove la vuoi costruire ecco insomma guarda lì l'isola dei cactus che figo la vedi? ecco bene io direi che alla costruzione qua della nostra casetta possiamo stoppare la prima puntata ragazzi spero che questa serie vi piaccia perché diciamo è fatta veramente bene come mappa no? non trovi? sì sì secondo me sì è quello che l'ha fatta veramente ci ha speso l'anima secondo me ovviamente tipo qua abbiamo la mappa però se noi arriviamo ai confini della mappa si genera il mondo quello normale di minecraft però non ci arriveremo comunque sia spero di nuovo che questa questa prima puntata di Lost Island vi sia piaciuta vi invito a mettere mi piace a questo video se ovviamente vi è piaciuto lasciate qualche commento se avete voglia un saluto a tutti da Nevermind e un saluto da Krieg ciao 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 ciao